salve a tutti ragazzi sono sempre il vostro vincenzomen e quest'oggi ragazzi siamo su archiro allora ragazzi io direi che possiamo iniziare anche così perché perché va bene allora vabbè direi che possiamo andare ragazzi dobbiamo continuare il capitolo 2 quindi io direi di cominciare con multisparo e andiamo ragazzi ovviamente qui ragazzi ci sono dei mostri abbastanza complicati tipo questi che già mi hanno colpito eh no ragazzi ok ok sconfitti no mi dispiace allora questi vermi della sabbia ragazzi sono veramente fastidiosi infatti vediamo un po se riusciamo a fare qualcosa ma no ma tu non devi mirare cavoletti non devi mirare a quelli che sono dietro al muro tu devi mirare quelli che sono proprio davanti a te tipo questo tu lo devi sparare ecco ok no però raga questi vermi sono una perdita di tempo allora colpo alla testa e ce la prendiamo subito però mi devo prendere il coquet il coquet è ottimo cavoletti cavoletti ragazzi mamma mia ok abbastanza complicati eh oh yes complicati ci sono allora tu ti becchi questo dov'è l'altro ah ok sconfitto mamma mia ragazzi questi cactus bellissimi salve ok prossima verità direi di prenderci muri rimbalzanti mi sembra più che ottimo poi ovviamente ci curiamo quella ragazzi è la prima cosa da fare quando abbiamo pochissima vita ok no però ragazzi è una roba impossibile c'è guardate c'è appaiono scompaiono questi vermi c'è ma sono odiosi dimostri ragazzi vabbè per intanto continuiamo a combatterli intanto un cuoricino perfetto ok no fermi mi sembra più che giusto no 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 vabbè ragazzi chi vi posso dire ma ok è sempre il ragno però non è possibile pensavo di sconfiggerlo senza muovermi però si vede che non ha funzionato va bene ragazzi diciamo che è stata una bella partita anche se un pochettino difficile ragazzi ci vediamo in un prossimo video di Archiro